Dal primo ottobre le frazioni terramane inizieranno a conferire i rifiuti con il nuovo sistema integrato che prevede anche le coisole. Cosa cambia? Allora innanzitutto non solo le frazioni ma anche il quartiere di Colla Atterrato Alto che ricordiamo ha chiesto a grande richiesta di avere le coisole. La cosa cambia? Poco, in realtà dal mio punto di vista è anche un'agevolazione se vogliamo perché le coisole resta aperta 24 ore su 24, ci sono ovviamente le coisole per zone di riferimento. Abbiamo incontrato in questo mese di settembre tutte le frazioni coinvolte proprio per dare anche indicazioni dove sarà esposta l'ecoisola. E in più resterà comunque il porta a porta con un ritiro inferiore rispetto a quello che conosciamo noi quotidiano, sarà una volta ogni 15 giorni ma potranno avere la libertà di utilizzare l'ecoisola a loro disposizione. L'unica nota importante riguardo alla raccolta è quella della produzione dell'indifferenziato perché la raccolta dell'indifferenziato avverrà una volta ogni 15 giorni e basta. La sperimentazione prevede sì la bocchetta dell'ecoisola che comunque ha una capienza diversa rispetto alle altre perché è tarata sulla volumetria dei 35 litri del mastello, mastello che è taggato. Questo perché dobbiamo tendere verso la tariffa puntuale quindi è importante il calcolo legato all'indifferenziato. In questa fase sperimentale non ci saranno né sanzioni né aumenti né diminuzioni. Anzi abbiamo previsto una riduzione del 30% sulla parte variabile per tutte le utenze delle frazioni e del quartiere di collaterrato alto proprio per tendere, spingerci verso una raccolta misurata dell'indifferenziato non solo per le frazioni ma molto presto per tutta la città. Quali sono le previsioni per quanto riguarda i dati e le percentuali della raccolta differenziata che vi attendete con l'avvio di questo nuovo sistema con l'ecoisola? Partiamo dai numeri attuali, gli esistenti. Noi ci muoviamo al momento purtroppo al di sotto del 65%. Negli ultimi mesi con una campagna anche di comunicazione e operativa abbastanza significativa siamo riusciti a portare le percentuali di raccolta differenziata della città quindi già oggi nei mesi di giugno, luglio, agosto a valori superiori al 70% fino ad arrivare a un picco ad agosto del 72% superiore al 72%. Gli obiettivi regionali quali sono di riferimento? Già a partire dal 2020 il 70%, nel 2022 il 75%. Quindi l'idea qual è? Partire con questo progetto e cercare di arrivare a dei risultati che a minimo si confrontino con quelli delle previsioni regionali. Quindi arrivare al 2022 al 75%.